Ciao a tutti, quest'oggi andremo a affrontare il quarantesimo teorema del libro primo degli elementi di Euclide. Nel teorema si afferma che i triangoli uguali, e con uguali si sottolinea Euclide intende equivalenti, che sono su basi uguali e dalla stessa parte, sono anche compresi dalle stesse parallele. Come si dimostra? Allora, qui abbiamo due triangoli, questo blu e questo rosso, che sono equivalenti fra loro e sono su basi uguali, rispettivamente a queste due basi nere. Si sostiene allora che questa retta in cui sono comprese le basi dei triangoli e quest'altra nera qua sopra, siano parallele. Se così non fosse, tracciamo noi una parallela a questa dove sono contenute le basi. Questa retta verde ora si ipotizza essere parallela a questa qui sotto. Andiamo ora a segnare il triangolo che ne risulta da questa parte. Essendo il triangolo blu e il triangolo giallo due triangoli con base uguale e compresi dalle stesse parallele, saranno uguali tra loro, ma il triangolo blu è anche uguale a quello rosso. Quindi anche il triangolo giallo sarà uguale a quello rosso, ma il triangolo giallo è minore di quello rosso e allora sarà uguale e minore allo stesso tempo, il che è assurdo e ovviamente una situazione del genere non è possibile. Analogamente si dimostrerà che nessun'altra retta, a parte questa nera, è parallela di questa in cui sono le basi dei due triangoli. Con questo la dimostrazione è conclusa. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!